L'evoluzione della donna porta alla menopausa non certamente in maniera improvvisa. Quindi c'è tutto un periodo, un intervallo di tempo che può essere più o meno lungo in cui i sintomi da pochi diventano tantissimi. E questa è la fase in cui cambiano i regimi ormonali da medio-alti normali a molto bassi. Integrare in termini ormonali vuol dire nella prima fase, prima di arrivare alla terapia sostitutiva, di aggiungere, modulare, ciò che manca dei mondi ormonali, o con un po' di progesterone o progestinici nella fase giusta, o semplicemente abbinare, quando questi ormai non sono più sufficienti per regolare la ciclicità mestruale, aggiungere a questi un po' di estrogeni, estrogeni naturali, estrogeni coniugati, in maniera utile e necessaria per mantenere la ciclicità mestruale se la donna lo desidera, ma più che altro per evitare, ridurre, minimizzare, se possibile, tutta la sintomatologia che è il corollario dell'evoluzione verso la menopausa, che chiaramente è ciò che la donna deve e fondamentalmente non dovrebbe mai provare. Il proporre una terapia integrativa, anche inizialmente col progesterone o con un progestinico, ha una grande valenza perché adegua e porta la donna a pensare di prendersi cura delle cose di cui sta soffrendo e sostanzialmente integrare non vuol dire fare una terapia ormonale di impatto, vuol dire semplicemente riaggiustare quei livelli ormonali che per evoluzione fisiologica, tra peri, menopausa e menopausa, sono destinate a cambiare. Ma le donne sopravvivono molto di più dei 50 anni, arrivano a quasi 90, quindi dobbiamo organizzare la donna in maniera tale che possa farsi una sua terapia prima integrativa con aggiungere ciò che viene meno, come il progesterone, con una poi che evolverà da integrativa a prettamente sostitutiva. L'importante è preservare la vitalità, l'efficienza, la cultura, la funzionalità centrale della donna, che è il cervello e tutti i suoi disagi, perché da lì molto poi dipende il prendersi cura e gestire le sintomatologie che la menopausa porterebbe, che sono il disturbo cardiovascolare, l'osteoporosi, il tono dell'umore, l'insonnia, l'affettività, la sessualità. È fondamentale prendersi cura noi delle donne e che le donne sappiano prendersi cura di se stesse.